L'assessore all'ambiente di Battipaglia, Carolina Vicinanza, interviene sulle polemiche inerenti all'osservatorio e alla consulta ambiente. In una nota chiarisce che Ebbene, mettere ordine rispetto all'attività della seconda commissione relativa al regolamento sulla consulta ambiente. C'è un'unica proposta che è quella dell'amministrazione che ha accolto le osservazioni sviluppatesi nel dibattito. Smentisco ricostruzioni fantasiose su esiti positivi di proposte altrui. Ringrazio chi all'interno delle associazioni invece ha avuto uno spirito propositivo. Inoltre sottolinea come l'amministrazione si è da sempre caratterizzata per l'apertura totale nei confronti dei cittadini. Per l'assessore è stato presentato un regolamento che in maniera equilibrata Tiene insieme esigenze di carattere tecnico con la necessità di partecipazione, con regole serie. Ricordiamo che è la prima volta che un'amministrazione comunale disciplina la costituzione della consulta e dell'osservatorio.